L'Oper! Andate bene, via! Signori, non mettete in fila le mie storie una dietro l'altra. Ma provate a sommarle come se fossero tutte parti di un'unica grande storia che le contiene tutte. E fossero tutte contenute nella mente di un solo narratore. Non avete timore degli spettri? Signor Cavaliere, gli stavamo aspettando. Se questa è un'altra prova per la mia virtù, credo che essa non uscirà molto bene. Non siamo qui per caso. Non sottovalutate troppo ciò che vi è sconosciuto al prossimo. Ora vi appartenete. Ciao. Grazie a tutti.